musica no provo con la tessera no si non sta caricando non sta caricando quindi tu hai detto tempo libero che stasera io adesso adesso vediamo come l'aria fresca entri dalla punta delle nostre marisce mi hai visto come ho bisogno di parlare di qualcuno che non abbia la mia stessa forma mentis è sempre bastoni cioè secondo me la figata vera sarebbe trovare della mano del capo ghiacciato sarebbe il top musica 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 che dici il tuo compare jacobo musica 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 musica